Buonasera amici, buonasera e benvenuti ad una nuova puntata di Valori in Corso. Questa sera ci occupiamo di un tema che è sempre di attualità, lo torna costantemente, ed è il disagio giovanile, in particolare il disagio che attraversano i trentenni, coloro che hanno iniziato magari un percorso lavorativo e che oggi molto spesso si trovano in mezzo al guado, con qualcuno che fra l'altro gli dà contro, con frasi che sono a volte anche pesanti, magari non vorrebbero esserlo, però poi si tramutano in un motivo di scontro piuttosto forte. Noi vogliamo partire da una frase del Ministro Fornero del mese scorso, quella in cui ha definito i giovani troppo schizzinosi, li ha definiti i ciusi, un termine che da quel momento poi è entrato nel gergo comune del dibattito politico e abbiamo deciso di dare a questa puntata un titolo piuttosto forte. Abbiamo deciso di chiamarla Padre, perché mi hai fatto questo? Perché ci mettiamo dal punto di vista dei giovani che terminano il percorso di studi, che abbiano vent'anni, che ne abbiano venticinque o trenta, non importa, ma che si trovano un panorama nel mondo del lavoro che è sicuramente molto molto diverso rispetto a quello che si sono trovati ad affrontare i loro genitori. Un panorama del mondo del lavoro che a loro offre poche opportunità, ma soprattutto poche aspettative e poche speranze, che quindi genera, come abbiamo detto, un profondo disagio. Questa sera ne parliamo insieme ai nostri graditi ospiti, che sono Andrea Bozzolan, che è un giovane, grazie Andrea, che è un giovane impegnato politicamente perché è il coordinatore per Torino dell'IDV, per i giovani, è anche un lavoratore. Ne parliamo con Guido Poccardi, che invece, buonasera Guido, che dall'altra parte della scrivania è fra chi seleziona il personale. Ne parliamo anche con Federico Zittino, grazie Federico per essere qui con noi, che è un testimonianza di questa particolare condizione che oggi è propria di tanti giovani. Abbiamo poi Marco Verga, grazie Marco per essere venuto. Buonasera a tutti. Marco è responsabile delle risorse umane in una grande azienda torinese. E infine Manuela Bausano, psicoterapeuta, grazie Manuela, del centro di Tacano e Sole, che ci aiuterà in questo viaggio, sia durante il dibattito di questa prima ora e mezza, sia quando poi al termine dello stesso tireremo le fila e ci chiederemo quali valori e quali messaggi sono emersi da queste situazioni. Abbiamo anche un pubblico piuttosto folto questa sera, ci sono con noi una decina di ragazzi che arrivano da diverse facoltà, diverse facoltà universitarie, alcuni stanno ancora studiando, alcuni hanno appena terminato gli studi e quindi sentiremo anche dal loro punto di vista come si presenta questo panorama, questo panorama di introduzione al mondo del lavoro. Noi per iniziare partiamo proprio dalla cronaca di un mese fa. Se la regia può mettere in onda il primo contributo andiamo a rileggere proprio le frasi del Ministro Fornero. Ecco questo è un articolo preso dal Fatto Quotidiano, tutti i giornali lo scorso 22 ottobre hanno riportato la stessa notizia, il Ministro parlando all'Asso Lombarda ha dichiarato riguardo i giovani bisogna entrare subito nel mercato del lavoro, i giovani devono attivarsi e mettersi in gioco, il mercato del lavoro deve essere più inclusivo e dinamico e onestamente su queste cose non si può che essere d'accordo con il Ministro Fornero, solo che poi ha dichiarato che i giovani italiani oggi sono disposti a prendere qualunque lavoro, tant'è vero che sono in condizioni di precarietà, ma in passato qualche volta poteva capitare che i giovani fossero schizzinosi, quindi li ha definiti chiusi, il termine che poi è rimasto sopra tutti gli altri. Allora io partirei da questo termine e chiederei ad Andrea tu cosa ne pensi? I giovani sono effettivamente chiusi? Mi viene da sorridere, sinceramente penso che la signora Fornero ha perso un'occasione importante per dire qualcosa da Ministro del Lavoro, i giovani ovviamente non sono chiusi, non sono schizzinosi, i giovani semplicemente cercano un posto di lavoro, un posto di lavoro per potersi realizzare e poter crescere. I giovani d'oggi sono molto preparati, tu prima citavi i nostri ospiti del pubblico, sono quasi tutti universitari, laureandi, quindi hanno qualifiche molto ampie, ciò non vuol dire che non si disinteressino a tutti quegli altri tipi di lavoro che magari per molti aspetti possono sembrare meno importanti. Tu Andrea da quanti anni lavori? Io sono dieci anni. Quindi tu hai iniziato molto presto? Ho iniziato prestissimo, infatti mi sono impoppiato le mani, come tanti miei coetanei, fin da subito e ho incominciato a lavorare. Ovviamente ho avuto i miei periodi vuoti nei quali non riuscivo a trovare un posto di lavoro, però c'è da dire anche che io ho avuto una fortuna rispetto ai giovani d'oggi, che la situazione di crisi o meglio di recessione che c'è in questo momento non era presente una decina di anni fa, tra il 2002 e il 2003. Quindi hai avuto la fortuna di iniziare in un periodo in cui tutto sommato era un po' più semplice di adesso, però oggi è già una certa esperienza. Ora il lavoro è una vera e propria porta girevole, nel senso che esci, entri ed immediatamente esci, non hai modo neanche di fare un'esperienza o imparare. Ecco, questo mi fa tornare in mente una frase del nostro Presidente del Consiglio che poi sicuramente incontreremo durante la puntata, quando Monti disse che il lavoro dipendente era noioso, ma poi ne parleremo. Ma io vorrei chiedere all'altro giovane che è qui presente fra gli ospiti, Federico Zittino. Federico, anche tu hai 30 anni, come Andrea, la tua esperienza qual è stata? Tu quando hai iniziato a lavorare? Io ho iniziato a lavorare otto anni fa, ho iniziato a lavorare con un contratto a tempo determinato, un contratto che mi avrebbe dovuto aprire la porta verso quello che forse sarebbe stata una formazione in azienda attraverso anche un percorso di formazione in aula e così via, solo che successivamente alla chiusura di questo contratto in realtà semplicemente sono stato lasciato a casa sostanzialmente. Tu sei tuttora precario? Sono tuttora precario in un'altra azienda diversa da quella di prima e sempre però con una situazione analoga a livello di tipo di contratto. Tu che studi hai fatto? Io ho fatto scienze della comunicazione, laurea triennale, scienze linguistiche, laurea specialistica, la di secondo livello. Sì, quindi quella che io chiamo scienze della disoccupazione, ma mi permetto solo perché anche io sono laureato in scienze della disoccupazione. Ed è purtroppo verissimo, quindi lo posso confermare, quindi non mi dici niente di nuovo, anzi purtroppo uno cerca di fare quello che vuole essere il proprio percorso per te sentire realizzato sia come lavoratore ma prima di tutto come persona. Ecco, poi entreremo magari più nel dettaglio delle tue esperienze, ma secondo te i tuoi coetanei sono chiusi? Sono schizzinosi? Non lo sono, non lo sono per niente, sono ragazzi impegnati, sono ragazzi preparati, ragazzi che hanno voglia di imparare. Permetto di correggere quello che è stato detto qualche istante fa, non tutti i ragazzi magari sono preparati fin da subito, però hanno tanta voglia, secondo me, per l'esperienza che ho con amici e colleghi, hanno tanta voglia di imparare, quindi di mettersi in gioco. Quindi insomma non sono schizzinosi secondo me, non siete schizzinosi. Non gli viene data la possibilità di imparare. Ma adesso sentiamo invece chi vi giudica, partiamo da Guido. Guido Poccardi, consulente aziendale, si occupa di gestione risorse umane e anche di recruiting, questa brutta parola, che vuol dire sostanzialmente selezione del personale. Certo. Da quanti anni lo fai? È una ventina d'anni che faccio questo tipo di lavoro. Secondo te i giovani sono schizzinosi oggi? No, direi sostanzialmente no. Quello che si può notare, almeno quello che io noto dal mio osservatorio professionale, c'è una grossa differenza tra quelle che sono le aspettative maturate lungo il percorso scolastico dei giovani e quello che può offrire il mondo del lavoro oggi sostanzialmente. Questa grossa differenza determina delle difficoltà, sia di metabolizzazione del mondo del lavoro, sia di sviluppo e di inserimento da parte dei giovani. Quindi sostanzialmente secondo te i giovani non sono schizzinosi, ma è il lavoro che è brutto attualmente? No, non è il lavoro che è brutto, è che probabilmente si creano anche delle aspettative che non sono esattamente in linea con quello che è il reale mondo del lavoro. Fin qua abbiamo detto cose che sono assolutamente condivisibili da tutti, però io vorrei capire dove si situa il problema, nel senso che se i giovani hanno tanta volontà, magari anche di imparare cose che non hanno appreso durante il corso di studi e il lavoro non è così semplice, però comunque offre loro queste opportunità, non capisco poi dove si creino problemi perché, sapete, quello che ha detto la Fornero in realtà ha suscitato uno scalpore enorme, se la regia può mettere in onda il secondo contributo, vediamo cosa è successo dopo queste dichiarazioni, innanzitutto la Fornero è stata querelata dal padre di un dottorando che si era suicidato due anni prima e il padre appunto, il signor Zarcone, padre di Norman che si era buttato dal terrazzo del settimo piano della facoltà di lettere a Palermo per protestare contro le baronie due anni fa, ecco il padre di questo povero ragazzo ha dichiarato, non è concepibile che esponenti del governo continuino ad usare tale terminologia riferendosi ai nostri giovani, poiché viene offeso il percorso individuale, umano e professionale di un'intera generazione e notiamo che sostanzialmente la Fornero aveva detto più o meno quello che avete detto anche voi in realtà, perché se andiamo a rileggere proprio le frasi della Fornero in realtà non accusava i giovani di essere schizzinosi ma sostanzialmente proponeva loro di entrare subito nel mondo del lavoro e chiedeva che il mondo del lavoro fosse più dinamico. Io chiederei anche il terzo contributo a questo punto perché ci dà qualche riferimento oggettivo in più. Banca Italia, secondo il titolo del fatto, smentisce la Fornero, ma Banca Italia fa uno studio, che sicuramente la Fornero conosce, uno studio che dice che oggi un quarto dei giovani italiani, 25%, ha un lavoro con bassa o nessuna qualifica contro il 18% dei coetanei tedeschi, il 30% svolge un'occupazione diversa da quella per la quale ha studiato, con punte molto molto alte di over education, cioè di formazione troppo elevata rispetto al lavoro effettivamente preso. Tant'è vero che questo tasso di over education è molto alto al centro e al nord-est, siamo attorno al 30% nel centro Italia ed è altissimo per quanto riguarda alcune percentuali umanistiche, di facoltà umanistiche. Abbiamo addirittura il 39% dei laureati in lettere o facoltà umanistiche che fa un lavoro senza nessuna qualifica e il 68% comunque svolge un lavoro diverso rispetto a quello per il quale ha studiato e percentuali simili sono anche quelle relative ai laureati in scienze sociali. Allora a questo punto chiedo a Marco Verga, Marco tu hai un osservatorio ormai decennale da responsabile del personale in una grande azienda e mi dicevi circa 400 dipendenti. Innanzitutto i giovani sono schizzinosi e poi cos'è che le aziende cercano e i giovani non sono in grado di dare oggi? Ma a mio parere i giovani non sono schizzinosi, le affermazioni del ministro Fornero in questo caso non sono assolutamente condivisibili. Certamente c'è pochissima offerta da parte delle imprese in questo momento e spesso molti giovani non sono così preparati. Quindi dobbiamo anche un po' pensare che la preparazione universitaria e scolastica spesso è molto distante da quello che le imprese attualmente cercano e quindi questo è un problema su cui dobbiamo riflettere. Sono anch'io dalla parte dei giovani, sono stato giovane dieci anni fa, avevo trent'anni, adesso ne ho quaranta, però siamo consapevoli che dal punto di vista della preparazione c'è ancora un gap, un gap che forse negli ultimi anni anche dopo la riforma universitaria si è allargato invece che restringersi. Sentivo prima il mio vicino che ha detto che aveva fatto una trennale di un certo tipo, poi aveva fatto una laurea biennale, la riforma dei 3 più 2 devo dire che per le imprese per esempio è stato sicuramente non un successo, sono poche le imprese che hanno assunto laureati con una laurea trennale e spesso i planelli di studi si sono modificati, si sono persi, aggiungendo moltissime materie, alla fine i laureati non si capisce nemmeno in che cosa si sono laureati e questo non lo capiscono nemmeno le imprese. Tornamento dell'università italiana innanzitutto. Tendenzialmente c'è stato un indebolimento della preparazione universitaria e talvolta si sono creati tutta una serie anche di master, di diplomi post laurea che hanno bellissimi nomi però dal punto di vista poi effettivo danno poco a questi ragazzi. Quindi mi pare di capire da quello che dite voi tutti che i giovani non sarebbero schizzinosi però le aziende hanno bisogno di una preparazione che i giovani non sono in grado di dare non sono in grado di dare perché evidentemente è il sistema formativo che è carente però se il sistema formativo è carente i giovani arrivano impreparati al mondo del lavoro non possono essere assorbiti quindi si crea una sorta di cortocircuito per cui i giovani sostanzialmente non riusciranno a entrare in un curriculum lavorativo degno di questo nome. Rimangono nel sottobosco, rimangono appunto nei lavori dequalificati e nel precariato e le aziende allo stesso tempo soffrono nella stessa maniera perché non riescono ad acquisire le competenze che servirebbero. È un po' il panorama che vedete anche voi, Guido? Ritengo che sullo sfondo c'è comunque un elemento di crisi economica che caratterizza comunque il rapporto che c'è fra il mondo del lavoro e chi ci vuole entrare nel mondo del lavoro. Ma è solo crisi perché comunque in Italia 19-20 milioni di persone lavorano il problema è che chi è sotto i 30 anni oggi lavora molto meno perché la disoccupazione in Italia non è altissima ma la disoccupazione giovanile è stratosferica, ormai è raggiunto il 31% e poi l'altro problema è che comunque chi ha un'età più avanzata magari ha un lavoro degno di questo nome, ma i giovani difficilmente hanno un lavoro che tale si possa chiamare. Infatti quello che vedremo questa sera anche con i filmati che abbiamo girato ce lo dimostra. Non è solo un problema di crisi, è anche un problema generazionale. Cosa ne pensate? Troppo la disoccupazione giovanile, ti correggo solo nella percentuale, è del 36% in questo momento, quindi più di uno su tre, però a questa statistica bisogna fare una piccola analisi, vengono esclusi gli studenti e per studenti io ne intendo chi studia e chi veramente sta diplomando, sta percorrendo un percorso di laurea, ma semplicemente chi è scritto. In più a questa cifra vanno esclusi i disillusi, quelli che per molti motivi non stanno più cercando lavoro. Cosiddetti NEET, not education, employment or training. Questa percentuale è più concentrata nel mezzogiorno, quindi il numero aumenta notevolmente. Se poi consideriamo che i due terzi restanti, il 60%, circa poco più, dei giovani hanno contratti che sono tutt'altro contratti a tempo indeterminato o che danno garanzie, ci rendiamo conto che ci ritroviamo gente con contratti atipici, con stage che non... Sì, sì, ma mi pare di capire una cosa sostanzialmente che questo è un dramma, anche io lo vedo come tale, tu che hai 30 anni ce lo stai confermando, non è solo un problema di congiuntura economica, è un problema legato proprio a una divaricazione fra le generazioni. Io a questo riguardo vorrei sentire Emanuele Abbausano. Tu cosa ne pensi? Ma a partire dalla Fornero ritengo che la generalizzazione di per sé sia piuttosto sterile, nel senso che affibbiare un'etichetta non serve a nessuno, non è funzionale. Poi quella che lei descrive è una realtà che forse esiste, parziale però, così come è vero che ci sono tantissimi giovani e meno giovani, perché qui dobbiamo intenderci su cosa intendiamo per giovani come fascia d'età, perché poi c'è anche chi è in crisi e non poco, anche intorno ai 35 anni, quindi la fascia si allarga. C'è chi si iscrive all'università paradossalmente proprio perché è rassegnato, nel senso la situazione è questa, non ci sono prospettive, faccio 4 o 5 anni, almeno faccio lo studente e poi vediamo cosa succede. Quindi ci sono tantissimi aspetti. Ci si sente più in pace con se stessi almeno. Qualcosa posso dire che sto facendo, però non è rassicurante, piuttosto triste. Ecco, quindi sostanzialmente stai attaccando il sistema formativo per cui non c'è formazione continua, long life learning, come si postulava negli anni 70, ma in realtà sono più che altro, come dire, dei passatempo alcuni corsi. Però anche qui io non vorrei generalizzare, c'è università e università. Conosco alcune realtà per cui l'università non è sufficiente, quindi la formazione successiva, lunga, va a colmare lacune che ci si porta dietro da anni. Bene, durante questa puntata noi avremo modo sicuramente di sviscerare molti di questi argomenti. Ripeto, perché in realtà non coinvolgono soltanto il mondo del lavoro, ma probabilmente coinvolgono ancora maggiormente il mondo della formazione. perché evidentemente se il ministro del lavoro invita i giovani a buttarsi nel lavoro, anche a prescindere da quello che hanno studiato e nei fatti, che non ha fiducia nel sistema formativo, è evidente. Approfondiremo questi argomenti subito dopo il break pubblicitario. Grazie a tutti.